Ciao a tutti ragazzi, io sono Master of Puppets e benvenuti a questa seconda puntata della mia serie su Counter Strike che è una puntata veramente molto breve perché oggi vi andrò a presentare questa modalità, la modalità demolizione detta in italiano una modalità su cui non bisogna dire molte cose perché è molto simile ad Arms Race sul fatto di come si sbloccano le armi infatti le armi si sbloccano a ogni uccisione all'inizio del nuovo round però avrai disponibile l'arma nuova per quell'anno dovrai sempre tenere la stessa arma invece le mappe sono veramente molto piccole, molto ristrette e i round si risolvono in veramente pochissimo tempo non come la modalità, la classica modalità di Counter Strike che vi andrò a presentare settimana prossima sempre su questo canale che i round possono risolversi anche in 1, 2, 3, 4 minuti una modalità veramente molto divertente, molto semplice, c'è una bomba da plantare da parte dei terroristi e dei counter terrorist da difendere non è nulla di chissà che complicato, è semplicemente per rilassarsi ma è molto divertente che occupa anche poco tempo ed è sempre un 5v5, questo è il bello intanto qua ormai il video è già finito, è veramente cortissimo questo video anche io ho avuto poco tempo per giocare questa settimana e non ho potuto registrare molte clip per demolizione il video è finito, io vi saluto, spero che vi sia piaciuto anche se è corto magari in futuro farò una seconda puntata riguardante sempre questa modalità ciao ciao